Musica Musica Amici di Cusano Italia TV Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Crimini e Criminologia Andiamo subito a scoprire quello che è il primo titolo di oggi Perché questa è una puntata veramente speciale E allora, eccolo qui, Mirella Gregori Cronaca di una scomparsa 7 maggio 1983 Mirella ha 15 anni, quando arriva una citofonata Siamo nel primo pomeriggio di quel sabato Qualcuno citofona a casa Gregori Risponde Mirella e dice alla mamma Scendo perché è Alessandro Quel mio amichetto compagno di scuola delle medie Mirella scende Da quel momento non si avranno più notizie di lei Sono passati 39 anni, quasi 40 anni Come inghiottita così, nel vuoto, nel buio La povera Mirella Per parlare di lei, per ricordare questa lunghissima, incredibile storia È in studio, questa sera qui a Crimini e Criminologia E la ringrazio sentitamente per questo Antonietta Gregori, la sorella di Mirella Buonasera, Antonietta Buonasera a tutti Grazie veramente per essere qui in studio Perché è tutta un'altra cosa Anche per parlare direttamente con te E con chi è invece, in questo caso, sì Collegato da remoto E lo ritroviamo con piacere Il giornalista e scrittore Mauro Valentini Buonasera Mauro Buonasera a voi e grazie Fabio per l'invito E ricordiamo, io l'ho qui sul tavolo Ma abbiamo ovviamente anche le foto del libro Che Mauro Valentini ha dedicato a Mirella Gregori Abbiamo mutuato il titolo del libro per questa puntata Mirella Gregori, cronaca di una scomparsa E prefazione di Pietro Orlandi Il fratello di Emanuele Orlandi Perché questi due casi poi Per una serie di motivi Si intrecciarono Andiamo a salutare anche il terzo ospite Che è collegato già con noi Il presidente di Asso Tutela Giornalista e criminologo Michel Maritato Buonasera Buonasera, buonasera a voi Buonasera agli ospiti Michel ha voluto essere presente Fin dal primo capitolo Perché tiene molto a questa storia E ad Antonietta A tutti i familiari di Mirella Peraltro proprio nel settembre scorso Del 2021 È stata premiata Antonietta Gregori Proprio per il suo impegno Non ha mai mollato Continua ancora a cercare notizie Su Mirella Il premio eccellenze italiane Devo ringraziare Michel per questo È stato anche un onore conoscerlo Perché è una persona splendida Ecco perché Michel Ci teneva a essere presente Non so se vuoi dire subito Qualcosa come incipit Michel Prima di entrare nel vivo Assolutamente Io devo ringraziare Antonietta Che è una persona fantastica Ma non lo dico perché Lei lo sa Io lo penso veramente Lei è un esempio di vita per tutti noi Perché noi tutti Potremmo Noi tutti i nostri figli I nostri nipoti Il nostro futuro Possiamo incarnarci In quello che è il loro dramma E potremmo essere i futuri Stefano Cucchi I futuri Mirella Gregori I futuri Emanuela Orlandi Potremmo essere noi le vittime Sacrificati di queste tragedie Che rimangono poi Così come un Un abbaglio Nella nostra società E dei quali poi non si sa Poi la verità fino in fondo Non si è scoperta Probabilmente non si scoprirà mai E rimane sempre quel dubbio In queste famiglie In queste vite Che vengono per sempre rovinate E quindi chiaramente È giusto Ed è proprio Dovere di tutti noi cittadini Italiani Ma anche dei cittadini del mondo Esigere questa verità Perché è la nostra verità La verità di una vita umana Appartiene a tutti E dobbiamo stringerci alle famiglie In particolar modo in questo caso Alla famiglia Gregori Perché sono persone che vivono un dramma E che lo vivranno per sempre Hanno una vita segnata Di sofferenze Di dubbi E probabilmente Non hanno più La possibilità Di vivere quella vita Iniziata magari in un modo Ma poi terminata in un altro Per cause A noi ancora oggi oscure Che dobbiamo Sicuramente Da accertare da curare È un dovere cittadino di tutti Ecco Cercheremo ovviamente Di capire Quello che può essere accaduto A Mirella Gregori Ripercorrendo Non sarà facile Quasi 40 anni Di storia Intanto Nel ringraziare La regia di Emanuele Forcina Chiedo se è possibile Alzare leggermente Il ritorno Degli ospiti Che sono collegati Da remoto O per lo studio Perché Leggermente Bassi E ricordo E possiamo vederlo Anche in sovraimpressione Che potete Inviare sms Oppure messaggi Attraverso Whatsapp A quel numero Che vedete in sovraimpressione 334-92-29505 334-92-29505 Per dire la vostra Per messaggi Di solidarietà Di vicinanza Alla famiglia Gregori Chissà Antonietta Noi ci proviamo sempre Lo facemmo anche A Radio Cusano Campus Quando intervenisti Proprio In un'altra occasione Oppure Qui In un'altra puntata Di Crimine e Criminologia Se c'è qualcuno Dall'altra parte Che ci sta seguendo Che può dare notizie utili Per sapere Più che altro sapere Sono passati 39 anni Qui ti chiedo La speranza È l'ultima a morire Anche in forma anonima Lo dico sempre Ogni volta Se c'è qualcuno Che si vuole liberare La coscienza Lo faccia Non è mai troppo tardi Infatti Volevo proprio partire da qui E allora ricordiamo Lo vedete 334-92-29505 Se ci sta seguendo Qualcuno che sa Anche in forma anonima Dice bene Antonietta Gregori Potete scriverci Ovviamente garantiamo La massima privacy Sotto questo punto di vista E poi Gireremmo tutto Ad Antonietta Gregori Questa È una speranza E sarebbe un sogno Ricevere qualche informazione Utile Ovviamente Non da mitomani Chiaramente Ecco Antonietta Però Per far capire Ricordare Tutto anche ai nostri Terespettatori Ripartiamo da quella Giornata drammatica Da quel sabato 7 maggio 1983 Quello che è il tuo ricordo Di quella giornata Che ha segnato La tua esistenza Una giornata Che ci ha stravolto E ci ha cambiato la vita A tutta la famiglia Una giornata Che era partita normale Una famiglia semplice E invece viene stravolta Dalla telefonata Di mia madre Dove lavoravo Al negozio E mi dice Sono tre ore Che non ho più notizie Di tua sorella È successo qualcosa Lei ha sentito subito Che era successo qualcosa La madre si Avertì subito Perché comunque Eravamo delle ragazze semplici Quindi non Casa Studio Amici Sotto casa Una famiglia normale E quando Purtroppo non c'erano i cellulari Quindi neanche si poteva avvisare Mamma faccio tardi Sono qui Sono là E lei ha avuto la sensazione Che era successo qualcosa subito Sì Tua madre si è subito Allarmata Proprio perché conosceva te E bene Mirella Come abitudine Infatti La singolarità Che colpisce subito Per come era Mirella Come ragazza Che se avesse ricevuto Un invito Tranquillo Da amici Per andare da qualche parte Come ad esempio A Villa Torlonia Io penso che sarebbe risalita A dire mamma Assolutamente Sì Oppure Cilofonato Mirella è stata tratta N'inganno Per scendere Secondo me Conoscendo mia sorella Non è scesa Perché conosceva Chi c'era di là Forse ha sbagliato Ad affidarsi dall'altra parte Dicendo che era qualcuno Che conosceva Quindi tu pensi Che il famigerato Alessandro Non era Alessandro Non era Alessandro Ma qualcuno che conosceva Tutti e due Ma tu pensi Che Mirella Possa aver mentito Perché No Quello no Assolutamente no Perché Nel senso Io ho solo due anni Di differenza con Mirella Quindi comunque Eravamo legate E se aveva qualcosa Di strano L'avrei capito subito Se c'era qualche Qualcosa di Di ombra Nella sua vita No L'avrei capito No perché Il discorso Che uno potrebbe fare Ma certo No L'abbiamo pensato anche noi 15 anni Mamma è Alessandro In realtà non è Alessandro Però sai Però perché Alessandro poi Sai Fabio 40 anni fa 15 anni Sono stati diversi Dei 15 anni di adesso Parliamo di 40 anni fa Quindi le ragazze Erano più ingenue Più Più serene Più tranquille Non avevamo grilli Per la testa Le ragazze di adesso A 15 anni Sono molto più sveglie Rispetto a noi E poi soprattutto Rispetto a oggi All'epoca Non esisteva Un sistema di sorveglianza Di telecamere Oggi Una cosa come quella Che è accaduta a Mirella Sapevamo dove Mirella fosse andata All'uscita del portone A destra A sinistra Se qualcuno Se la fosse caricata in macchina Ecco però per capire meglio Lei è scesa Convinta che fosse Alessandro Anche se non lo vedeva da tempo Sì sì quello sì All'inizio ha detto Se non mi dici chi sei Non scendo Esatto Già questa cosa E lì Mia mamma ha detto Ma chi è Poi dopo l'ha detto Ah sì sì ok Alessandro va bene Ok allora A dieci minuti scendo Quindi ha rassicurato Mamma Dicendo che era Alessandro Un amico delle medie Che però non vedeva da tempo Non vedeva da tempo Perché lei stava alle superiori Lei non si è stupita Che Alessandro No perché comunque Penso che fossero rimasti In contatto Infatti poi ci sono Ci arriveremo Un po' delle incongruenze Perché Alessandro Inizialmente quando sparisce Mirella A tua madre dice Non la vedo da due anni Sì In realtà poi si viene a sapere Ha verbalizzato Che era da qualche mese Sì Anche lì ci sono due Verbali differenti Ci sono dei punti oscuri Che andrebbero più Valutati E poi Comunque fa una sosta al bar Da quanto È stato poi dichiarato Da Sonia Amica del cuore Di Mirella Che lavorava al bar Sotto casa di Mirella Sì Siamo Non l'abbiamo detto La zona è quella di Portavia Dove A Roma Di fronte C'è il monumento Al bersagliere Nel ricordare proprio La presa di Roma Del 1870 Il 21 Il 20 settembre Ecco Ripartiamo da Sonia Allora Sempre con te Mirella Dopo che è scesa Va al bar A Sonia Dice Che sarebbe andata Almeno questo Poi ha dichiarato Sonia Quello che ha dichiarato Sonia Che Mirella È passata lì Gli ha detto Che aveva un appuntamento A Portapia E poi da lì Andava a suonare la chitarra A Villa Torlonia Questa è la frase Che mi ha detto Sonia Quando io sono passata Per sapere di mia sorella Se l'avesse vista Se l'avesse vista E io lì sono rimasta Un po' così Perché Mirella Non suonava la chitarra E non aveva amici Che suonavano la chitarra E questo già È un altro Spesso strano Va bene Ho detto ok Non fa niente Dopo sono andata In cerca di mia sorella In Rione La sera stessa Alle 8 Già stavamo Facendo la denuncia Alla polizia Di scomparsa E poi Sul tardi Sono andata Insieme agli amici Al mio ragazzo A cercare mia sorella A Villa Torlonia Ma era chiusa E nel mentre Passava una volante Mi sono fatta Aprire la villa E abbiamo cercato Insieme ai poliziotti Se ci fosse stato Per caso Il corpo di mia sorella E in fondo alla villa C'erano dei lavori Dei scavi Perché era rimasta In molti anni Chiusa quella villa E avevano riaperta Da poco al pubblico Ma nessuno Poi è andata A cercare mia sorella Nei giorni seguenti Quello è un altro Punto Che a noi Ci ha lacerato Perché Perché non cercare Una ragazzina Di 15 anni Il giorno dopo Se vi è stato Detto che mia sorella Era andata lì Con gli amici A suonare la chitarra Infatti E questo È un punto Che ha sempre evidenziato E lo fa anche nel libro Mauro Valentini Da cui ora vado Alessandro Più Sonia Mi sono appuntato Come Numi Ovviamente Protagonisti In quella Prima fase E poi Alcune amiche di Mirella Una in particolare E qui Penso Può anche confermarlo Antonietta Ha dichiarato Che qualcuno Le pedinava Che qualcuno Pedinava Mirella Poi arriveremo anche Ai misteriosi personaggi Che si presentarono Al bar Dei Gregori Quando c'era stata Quella Pesticciola Il giorno prima Proprio della scomparsa Dell'inaugurazione La ristrutturazione Del bar Però torno da Mauro Valentini Perché Tu proprio nel libro Mirella Gregori Cronaca di una scomparsa Cerchi Ovviamente Dopo aver fatto Il tuo solito Ottimo lavoro L'inchiesta Di porti delle domande E darti delle risposte Ripartendo proprio Da quella Citofonata Sì Beh Questa storia È una mostruosità Proprio da un punto di vista Investigativo E giuridico Anche Perché Nasce Come una scomparsa Volontaria Nessuno se ne preoccupa Ha detto bene Ha detto bene Antonietta Non la cercano Praticamente Non la cerca nessuno E Si perdono Quei giorni Che sono poi Quelle ore Ma quei giorni Che poi diventano Determinanti Perché Probabilmente Chi ha operato Un'azione Delittuosa E violenta Nei confronti Di Mirella Trattenendola Poi chissà Che cosa è successo Ha avuto Tutto il tempo Perché Lasciato Praticamente Libero Di fare Quello che voleva Di coprire Tutte quelle che sono stati Gli errori Che sicuramente Avranno compiuto Ma che nessuno È andato a cercare Ha parlato di Villa Torlonia Antonietta Quello è veramente Incredibile Io voglio sperare Che nel 2022 Non ci siano Situazioni di questo tipo Per cui una ragazzina Di 15 anni Che alcuni Dicono Essere andata In una villa Non venga Praticamente cercata Ha detto bene Antonietta C'erano degli scavi Quella era una villa Praticamente Riaperta al pubblico Da poco Con tanti pericoli E tanti punti oscuri Probabilmente Lì dentro Qualcosa si sarebbe Potuto trovare Invece si è perso tempo Alessandro Antonietta dice Sicuramente non è lui Io invece Dico che Bisognerebbe capire Se è lui O non è lui Perché non è chiaro Quello che poi lui racconta Nel proseguo E nessuno va a bussare Alla porta In maniera determinata E decisa Per chiedere I movimenti Di quel giorno A lui E a tutti quelli Che erano poi pochi Che conoscevano Che conoscevano Mirella Perché questa storia A me appare Del tutto certo Essere un prodotto Un incidente Una violenza Una aggressione Però determinata In un ambiente Che Mirella conosceva Perché come ha detto Antonietta Io purtroppo Non l'ho conosciuta Questa ragazza Ma da quello che lei mi dice Da quello che hanno detto I suoi genitori Hanno lasciato a verbale E anche da quello Che hanno detto Le amiche Di cui tu parlavi È una ragazza Che non si avventurava In una situazione Di pericolo E ha detto bene Sempre Antonietta A 15 anni È difficile Prendere un'iniziativa Come quella Da una famiglia Come la famiglia Gregori Dove Le situazioni Mi ha colpito molto Antonietta lo dice sempre Ha usato la parola Semplice Tante volte Ma semplice Io lo traduco Come per bene E quindi In una situazione Come quella Mirella Se si è mossa Si è mossa Perché si fidava E se si fidava Si fidava di qualcuno E conosceva E quelli che conoscevano Sarebbe stato semplice Io sono convinto Di questo E mi dispero Ogni volta che ci penso Sarebbe stato semplicissimo Mettere alle corde Chi aveva un buco Nelle sue dichiarazioni E trovare una soluzione Qualsiasi essa sia Ma la soluzione Si sarebbe dovuta Trovare Entro i primi 3-4 giorni Poi Cosa Cosa è successo Non lo sappiamo L'avremmo trovata viva L'avremmo trovata Morta L'avremmo trovata Comunque L'avremmo trovata Ecco Però Poi ovviamente Il dubbio qual è Per fare il nome di Alessandro E dire a Mirella Sono Alessandro Anche se non era Magari Alessandro Il vero Alessandro Questa persona Che ha citofonato Evidentemente sapeva Che Mirella Conosceva Alessandro Ma poteva anche Non essere Alessandro Ma avere detto Cioè qua Alessandro In macchina Ti sta aspettando Scendi Sono Tizio Però sapeva Solo per farla scendere Però comunque Ma pure è convinto Della cerchia degli amici Lui è convinto Di questa cosa Io non lo so Io non Purtroppo la verità Non la sa nessuno Però non ha torto Nel senso che Le indagini andavano fatte Quello sì Purtroppo non l'hanno cercata proprio Mia sorella Finché non è stata Poi allacciata Ad altre situazioni Solo Non l'hanno cercata Mia madre andava Tutti i giorni A Via dei Villini Che ci abitavamo di fronte A Portapia A cercare notizie Su mia sorella E scocciate Gli dicevano Signora Non si preoccupi Se sappiamo qualcosa Se scopriamo qualcosa Glielo Torni a casa La chiamiamo noi Torni a casa tranquilla Quindi Posso aggiungere una cosa Fabio Prego Secondo me Non l'hanno cercata Neanche quando hanno associato Alla storia di Emanuela Orlandi Cioè Hanno cercato Emanuela Se tu pensi Che i telefoni Della famiglia Gregori Del bar E di casa Vengono messi sotto Intercettazione A oltre Il 16 di settembre Stiamo parlando Di una scomparsa Del 7 maggio E proprio Non l'hanno cercata Non l'hanno cercato E addirittura Dopo hanno associato La storia di Emanuela Per cui hanno cercato Emanuela Orlandi Sperando In una soluzione Come dire Biunivoca Volevo sentire Anche Michel Maritato Che idea Che fatto lui Di tutta Questa incredibile storia Che il 7 maggio Del 2023 Arriverà 40 anni Ormai Michel Ma Facendo un mix Del pensiero Insomma Di Mauro Mi saluto Un bellissimo collega Peraltro che stimo Altro premio Eccellenze italiane Peraltro Eccellenze Esattamente Ne abbiamo due Stasera qui Esatto E di Antonietta Che rappresentano Il millesimo Della mia mamma Quindi io le conosco Molto bene Le dinamiche Di una ragazza Che poteva avere 15-16 anni In quel tempo Perché rispondono Insomma All'età della mia mamma Delle mie zie E sicuramente Sono Una Avevano una qualità Di vita diversa Delle 15 anni Di oggi E hanno dei valori Diversi Dalle 15 anni Di oggi Quindi sicuramente Mirella Non ha mentito Alla sua mamma Sicuramente È stata adescata Dal suo Aguzzino Per Con un nome Che lei conosceva Quindi con delle persone Che lei sicuramente Conosceva Perché erano persone A lei care Perché altrimenti Non avrebbero Non avrebbe mai Mentito Ma non perché la conosco O l'abbia conosciuta Perché chiaramente C'è una differenza di età Ma perché conosco Le persone nate In quegli anni Hanno dei valori diversi Fabio Forse tu ci sei più vicino Quindi puoi condividere Con me questo pensiero Nell'età Io sono del 67 Proprio come Mirella Mirella era d'ottobre Io sono di dicembre Esatto Quindi Era un'altra Un'altra generazione Esatto Un'altra generazione Altri Altri ideali Altri idee Altri modi di comportarsi Altra educazione Non c'erano i social Quindi non c'era Tutta questa comunicazione Queste emancipazioni Delle giovani ragazze E quindi chiaramente Si pensava a studiare Alla famiglia E a crescere in maniera educata Quindi sicuramente Non è stata cercata Come conferma Anche Mauro È stata una sentenza mediatica Già scritta Probabilmente da qualcuno Perché faceva comodo così Non c'era un motivo Magari per cercarla Non faceva pubblicità A nessuno Quindi magari gli inquirenti L'hanno deciso Di lasciare andare E soprattutto Ripeto Una ragazza di quel tempo Di questa età Non avrebbe mai mentito Alla mamma A meno che non aveva Problemi dilaganti Di tossicodipendenze Come le rovine Che ai tempi Andava tanto di moda Ma non era lei Quindi chiaramente Non era una età così E quindi questo Lo possiamo di certo Confermare Che non è stata cercata Probabilmente Anzi io lo confermo In maniera molto seria Come Mauro E confermo Quello come Antonietta Che essendo una ragazza Molto seria Non sarebbe mai scesa Da casa Se non Avesse conosciuto Chi Ha cirofonato Adesso con l'aiuto Non avrebbe mai raccontato Una bugia alla mamma Ecco su questo Siamo certi Io ho esordito Dicendolo Ma Ovviamente Pensando Anche all'ingenuità Di una ragazza Di 15 anni Che possa aver conosciuto Qualcuno Che in qualche modo Ma non avrebbe mentito Però avrebbe detto Alla mamma Mamma Ho conosciuto un ragazzo Scendo Perché è un ragazzo Che ho conosciuto E poi è chiaro Perché avevamo un rapporto Molto tranquillo E libero Con quei genitori Quindi questo Non ho bisogno di mentire Capito Per uscire O per fare qualcosa Questo è importante Chiarirlo Perché poi in tanti Magari si possono chiedere È normale Magari ha detto Alessandro Visto che non lo vedeva da tempo Ma mamma Lo conosceva E quindi ho avuto Via libera Per scendere Dicevo Con l'aiuto di Mauro Valentini Ci aiuta anche A livello cronologico Per capire Le varie tappe Adesso E con l'ausilio Della regia Vediamo La foto Del Il tempo E fu Quel giornale Mauro Il primo A occuparsi Della scomparsa Di Mirella Mamma Torno fra dieci minuti Sono passati Quattro giorni No? Questo Questa è la prima volta Che Mirella Appare sui giornali Che la sua scomparsa È riportata Sui giornali Sì è vero Abbiamo ricostruito Con Antonietta Abbiamo ricostruito La storia Di questa vicenda Lei racconta Che il papà Essendo un lettore Del tempo Si presenta In redazione Con quella foto Tra l'altro Quella foto Ha un O almeno Un merito Perché Antonietta Non la ricordava E l'abbiamo ritrovata Attraverso Nelle meroteca Della biblioteca nazionale E sì Questo è un segnale Di un redattore Che Con buona volontà Mette questa foto Bada bene Questa è la prima Uscita Ed è la prima preoccupazione Diciamo così A livello giornalistico E sono passati Quattro giorni Quattro giorni Sono Un allarme Gravissimo Per una ragazzina Di 15 anni Eppure È l'unica E prima Esperienza Poi avremo Un'altra foto Dopo dieci giorni E un'altra foto Dopo un mese Un trafiletto In cui si parlerà Di questa Di questa scomparsa Ma Però Voglio che Sia chiaro E rinforzo Quello che ha detto Antonietta Loro Alle 20 Di quel 7 maggio Erano già In questura A fare una denuncia Per scomparsa Descrivono Com'era Com'era vestita Eppure L'ascoltano Raccolgono La La Dichiarazione Ma non ascoltano Però La dichiarazione Della mamma Perché Rileggendo Quel foglio Quella brutale E fredda Denuncia Che la rilascia Rilascia Vittoria La mamma Di Antonietta C'è già tutto L'allarme E nessuno L'ascolta Perché Questa cosa Mi ha molto colpito Probabilmente Spero Che è cambiato Un po' L'atteggiamento Delle forze Dell'ordine Ma nell'83 Si presenta Una donna Che ha Che spiega Benissimo Noi abbiamo Parlato con Antonietta Con la suora Che era di fronte Al palazzo Dove loro Abitavano E questa signora Questa Questa suora Della chiesa Che è di fronte Non ricordo come si chiama E Ricorda addirittura Che l'allarme Della signora Vittoria Era alle cinque e mezza Alle cinque e mezza Era già In lacrime Preoccupata Per la ricerca Perché la figlia Non era Rientrata Stiamo parlando Di due ore dopo Significa che il controllo Familiare Era totale E quindi Questo non è stato Ascoltato Gli è stato detto Boh ma avrà fatto Una ragazzata Non si è dato Nessun credito Eppure Eppure Se fosse stata presa Come Azione violenta Sarebbero intervenuta La squadra mobile Sarebbero intervenute Le volanti Di zona Avrebbero setacciato Tutte le persone Che c'erano attorno E qualcosa Avremmo trovato Perché qui Non siamo di fronte A una banda Di rapinatori Di rapitori Incalliti Questa è la mia sensazione Nessun Grande organizzazione Citofona E cerca Di convincere La vittima A scendere Anche perché Se avessero avuto Gli strumenti Per portarla via Avrebbero trovato Mille Mille altri modi La ragazza Era salita A casa Da un'oretta Un'oretta e mezza Quindi insomma Era proprio semplice E aveva dei movimenti Molto lineari Per cui L'azione Si poteva Come dire Si poteva agire Se si fosse Pensato A un'ipotesi di reato E non A una scomparsa Volontaria Volontaria Come si fa A pensare A una scomparsa Volontaria Di una ragazzina Di 15 anni Che ha una madre Che due ore dopo La scomparsa È già in allarme Io non riesco A rassegnarmi Immagino Antonietta Ma io non riesco A rassegnarmi Come Come Cittadino Come amico Come vicino Nel cuore Della famiglia Della famiglia Gregorio Non mi riesco A rassegnare A questa azione Sciatta E incredibilmente Incredibilmente Non professionale Da parte di chi Invece Doveva agire Io racconto Nel libro Scusa Fabio Se mi dilungo Io racconto Nel libro Che dieci giorni dopo Si portano via A Viale Marconi Anzi a Vio Delisi da Gubbio Lì vicino Si portano via Una ragazzina Di 15 anni Come Mirella La portano via Due energumeni Che arrivano Con una macchina E la caricano In macchina Bene La sorellina Che era scesa Più piccola Aveva visto La scena Dall'allarma Ai genitori Che chiamano La polizia A quel punto L'intervento È per rapimento Non è per scomparsa Perché qualcuno Ha visto E da lì in poi Si bloccano Tutte le strade Consolari Si fa un intervento Si ha Nell'immediato La descrizione Della ragazza E poche ore dopo I rapitori Chissà per quale motivo L'avevano presa E portata via La buttano fuori Dalla macchina E la rimandano a casa È un caso Che potrebbe riportare All'attenzione Quello che può essere Accaduto A Mirella Lì è stata vista Lì è stata vista Da una sorella Per cui voglio dire Erano fatti Che accadevano A Roma E su questo Per carità È vero Ma Agire come Un reato Un'ipotesi di reato E non agire Come scomparsa Volontaria Faceva Avrebbe fatto Tutta la differenza Del mondo E tra poco Ripartiremo da qui Intanto mi segnalano Che stanno arrivando Essenzialmente Messaggi di solidarietà Nei confronti Della Famiglia Gregori Tanta Vicinanza Noi Speriamo sempre Possa arrivare Qualche messaggio Utile A metterci Magari Su una pista Per sapere No Antonietta Perché È chiaro Che poi Il problema È che È triste Come dice Pietro Orlandi Il silenzio Non vorrei mai Sapere Come quando Uscì la storia Delle ossa Presso l'annunziatura Apostolica Di trovare Mia sorella Emanuela Sotto una mattonella Ma io vedi Lì la penso Diversamente Ecco so che tu la pensi Diversamente Tu vorresti almeno Piangerla Perché so dove portare i fiori A mia sorella Perché lasciare così Ci ha lasciato Con le vite sospese Io dico sempre No? E non Poi leggerò Alcune frasi Due significative Non sai che fine ha fatto Non te ne fai una ragione Perché alla morte Purtroppo Col tempo Poi ti devi rassegnare Ma così non ti puoi rassegnare Mia madre diceva Io piango Io piango Tua sorella Non so dove portargli i fiori È ancora peggio È peggio Sì Intanto Vittoria Arzenton Ricordo anche I nomi dei genitori E papà Paolo Torniamo tra pochissimo Linea alla regia Ben ritrovati Da Fabio Camillacci Secondo capitolo Di Crimini e Criminologia Continuiamo a parlare Di Mirella Gregori Cronaca di una scomparsa Scomparsa il 7 maggio Del 1983 83 In studio sempre Antonietta Gregori La sorella Collegati Mauro Valentini E Michelle Maritato E ripartiamo ovviamente Da Antonietta Per continuare A sentire il suo racconto Di quei primi giorni Perché poi arriveremo A un punto Di svolta Ecco Ricordo dopo Quella notte di ricerche frenetiche Hai parlato di Villa Torlonia Ma non solo Perché andaste anche a Ostia Vero? Andammo a Ostia Andammo in tutti gli ospedali Per cercare In tutti gli ospedali Per cercare a pronto soccorso Se per caso fosse arrivata Una ragazzina Ferita Investita Non lo so Come dice Mauro Fosse successo qualcosa di brutto E non la troviamo A Ostia Perché era il posto Dove frequentavamo noi Il mare E quindi ho detto Chissà se magari con la macchina Si sono avventurate Sono andate a Ostia A fare un giro alla Pineta Poi la Pineta Comunque è grande Ma noi avevamo puntato Dei punti in cui frequentavamo Però disperazione Perché È ovvio No Però non abbiamo lasciato nulla De intentato E in quei momenti Non pensi a nulla Cerchi e basta Credo che proprio La testa Ti va ovunque No? Qualsiasi pensiero Qualsiasi ipotesi Pensi E vuoi Metterla in pratica Sono tornata la mattina a casa E ho trovato Mia madre affacciata alla finestra Sperando che Gli avessi riportato mia sorella E questa è un'immagine iconica Di tutta Questa terribile storia No? Tua mamma Affacciata alla finestra E così è stato Almeno Lei ha portato via per tre anni Sì Lei passava il tempo Fino che poi avete cambiato casa Sì Però lei per tre anni Stava davanti Purtroppo La casa non affacciava Sulla Nomentana Quindi Avevamo un cortile interno In questo cortile Aveva un passaggio Per arrivare a Portone Lei sperava sempre A ogni chiusura di Portone Che arrivasse mia sorella Non aveva cambiato serrature Non aveva cambiato Assolutamente nulla Il telefono Aveva E quando ce ne siamo tutti andare Perché tra l'altro Ci ha neanche sfrattato E Il pensiero suo Era il telefono Se torna Mirella Non ci trova Né a casa Non ha più neanche Il telefono nostro E' chiaro Qualsiasi riferimento E qui voglio leggere Quella frase Che è riportata Nel libro Di Mauro Valentini Frase detta proprio Da Antonietta Gregori Che secondo me Proprio fotografa Alla perfezione Quello che può provare Una madre Un padre Una sorella Un affetto Di una scomparsa I giorni del dolore Mamma Vittoria Per anni affacciata La finestra Sul cortile Abbiamo detto E tu parli di domenica 8 maggio Perché giustamente Il 7 scompare Ancora hai qualche speranza No? Infatti cerchi Mirella ovunque Poi dici Da quella domenica 8 maggio In poi Niente è stato più Come prima L'orologio Che dettava I tempi della vita Della mia famiglia Si è come spezzato Il tempo passava Ma noi Non ce ne siamo accorti Tutto Si è fermato Quel giorno Una famiglia Sospesa Ecco Penso che Queste parole Dicano tutto Di quello che uno Può provare Si Non lo auguro a nessuno Perché è una cosa Veramente lacerante E come hai detto È chiaro La morte Ti rassegna col tempo Però in parte Un po' di rassegnazione Ce l'hai col tempo Magari non subito Però dopo 40 anni Tipo adesso Insomma Sarebbe stato diverso Invece io vivo tutti i giorni Col pensiero di mia sorella Mia sorella sta con me Tutti i giorni Io ho le foto a casa Ho un quadro Grande che mi ha fatto Un pittore Che me l'ha donato E Mirella sta con me Tutti i giorni E rimanere così Con queste vite Vita non vita Perché non è una vita È un Proseguire a vivere Ma non è Non è serena Ti fai una famiglia Sì per carità La vita va avanti È ovvio Però non Non vivi Con la consuetudine Di una vita normale Ti sei fatta una famiglia Peraltro con Quel Filippo È stato con voi Con te Purtroppo anche lui Si è trovato in questo vortice Certo Ha sofferto insieme a noi Ha aiutato nella famiglia Anche nella ricerca Dei primi giorni Eh sì perché la considerava Un'altra sorella Non ho sempre detto Assolutamente sì E poi tre figli Qui lo salutiamo Perché Dietro le quinte Loris Uno dei tre figli Peraltro uno dei due gemelli Che è i gemelli E poi un altro più grande E poi un altro più grande Ecco ne approfitto Loro come Cioè nel tempo Avete raccontato Di questa zia Che avrebbero potuto avere Loro sono stati tranquilli L'ho fatti Rimanere tranquilli Finché non sono andati E le medie Poi perché erano troppo piccoli Poi ho iniziato a parlargli Della zia E gli ho spiegato Quello che era successo Però erano già più consapevoli Insomma più maturi Per capire E ricevere certe cose E da allora Vivono con me Il dramma della famiglia Insomma Perché poi c'è anche Questo aspetto Che ogni Nel libro di Valentini Ce ne sono tante Di piste Che sono apparse E poi sono sparite In un attimo Anche questo è È una ferita Sempre aperta Ma che No? Certo In qualche modo Poi è come Girare il coltello Nella piaga Quando c'è una speranza Ah sì E poi subito Si ricrolla Uno non lascia Niente di intensato Dalla lettera anonima Che ci è arrivata Dalli avvistamenti Dai sciagalli Perché ci sono stati Anche quelli Dalle telefonate anonime Che poi non hanno portato A nulla Però sai Ti si accende la speranza Ogni volta che c'è qualcosa Eh sì E questo Voglio sottolinearlo Poi questa sera Purtroppo per impegni Personali Non è con noi La psicoterapeuta Barbara Fabroni Mi sarebbe piaciuto L'ha fatto la volta scorsa Quando è stata presente Maria Tuzzi Per un altro caso Per sentire da lei Quello che appunto Familiari di scomparsi In una situazione come questa Possano provare Invece Tornando da Mauro Valentini Volevo affrontare Una Una delle piste Che sono state In qualche modo Evidenziate Sulla possibile Diciamo Il motivo Per cui è scomparsa Mirella Quella della tratta Delle bianche Che potrebbe rientrare Anche nell'episodio Che raccontavi Prima Va detto Questo ovviamente Non deve giustificare Chi non ha fatto le indagini Come avrebbe dovuto fare Però dobbiamo dire Che quello era un periodo Particolarmente caldo Da questo punto di vista Tante ragazze scomparse Alcune furono ritrovate Per caso Ma erano morte Sì È vero Che La cosa che mi ha colpito di più Andando ad analizzare Quelli che sono Le carte processuali Che sono depositate All'archivio di tribunale Di Piazzale Clodio E che riguardano Per il 99% La storia di Emanuele Orlandi Poi c'è Questa piccola Come dire Questo piccolo capitoletto Che riguarda Mirella Però Ho notato Che una ricerca Fatta Delle scomparse Dal giugno 82 Al luglio 83 Praticamente Porta più di 100 Scomparse di minori Che poi però Per l'80 Il 90% Vengono ritrovate Comunque Entro quell'anno Vengono risolte Però io mi sono detto Ok abbiamo ritrovato Parecchie persone Ma ci sono Almeno Quell'anno Scompaiono E veramente Scompaiono nel nulla Più di 20 Minorenni Allora è chiaro Che è un fenomeno Che va a colpire Il capo della squadra mobile Di allora Intervistato da una giornalista Da una collega Dice Beh sì La tratta delle bianche C'è però Un po' meno Rispetto agli altri anni È una frase Che io Mi ha fatto saltare Dalla sedia Rileggendola Perché Evidentemente Questo problema C'era Anche se Ripeto Si parla Di scomparse Riferite a Dei minori Che hanno una vita Un pochino Più complicata Non c'erano L'immigrazione Che c'è adesso Però Erano comunque Delle situazioni Un po' borderline Un po' pericolose Un po' Come ha citato L'amico Michel Di situazioni Familiari Molto complesse O di dipendenza In qualche modo Bene Però Rimane un fatto Rimane che 20 25 Ragazze Circa Anzi scusami Adesso ricordo Il numero preciso 21 21 ragazze Minorenni In un anno Solare Scompaiono E non tornano In questo 21 C'è Mirella E c'è Emanuele Orlandi Ecco In Visto che hai citato Emanuele Orlandi In uno speciale Dal titolo Scomparsi Che è andato in onda Ancora si trova Se avete L'archivio Sky Go Per capirci Di Sky Fatto da Pietro Orlandi Quello speciale Nella puntata dedicata a Mirella Intervieni Anche tu Antonietta E viene intervistato Uno storico Che però Dice La tata delle bianche Non è mai esistita Cioè non è esistita Un'organizzazione Che viene in Italia A prendere delle ragazze E le porta via Tu su questa Possibile pista È chiaro Tu l'hai detto Io non so cosa pensare Perché Puoi pensare di tutto Su questa pista Perché Molti hanno detto Mamma era convinta Mamma invece ci credeva Ci credeva anche perché La polizia da allora Gli avevano detto Che probabilmente C'era questa pista C'era questa tratta Dele bianche Quindi anche loro Non erano Non erano Non convinti Perché Più o meno La descrizione di Mirella Era anche quella Che andavano a cercare Chi voleva Quel tipo di ragazze Quindicenni Ingenue Carine C'è detto anche De Manuela Questa possibile pista No? Prima di tutto L'intrigo internazionale Che anche lì Non sappiamo Se è vero L'intrigo internazionale Quindi Sono tutte ipotesi Purtroppo Però molto simile Mirella ed Emanuela Michelle Credo O Mauro Scusami Vado solo dire Aggiungere Che ho trovato Un documento E lo scrivo Nel libro Di un arresto Di un'organizzazione Criminale Che avviene Pochi mesi dopo La scomparsa Delle due ragazze Dove ci sono È un'organizzazione Internazionale Criminale Che si occupa Di sequestrare Minorenni Per chissà Quali motivi E in questa Organizzazione Tra i Diciamo Tra i Quelli che operavano Proprio dal punto di vista Materiale C'erano degli italiani Aggiungo Che una ragazza Inglese Scomparsa A Londra In circostanze misteriose Proprio nell'83 Viene trovata Mesi dopo Mesi dopo Morta A Jedda Ricordavo prima Alcune vengono ritrovate morte A Jedda In Arabia Saudita E obiettivamente Singolare Considerando Quella ragazza Tutto aveva A meno che contatti Con l'Arabia Saudita Per cui Voglio dire Qualcosa di sinistro Accadeva In quell'epoca Che poi Qui Siamo di fronte a questo Oppure Come io Insisto Nel dire A qualcosa Di molto più Casalingo E di molto più Legato a Porta Pia Viano Mentana Villa d'Orlonia Corso Italia Io Credo che sia questo Casalingo no però Che se no sembra che è successo qualcosa No no lui intende Casalingo In quella zona Quella Quadrante Diciamo E qui poi Lo anticipiamo Poi ci torniamo L'intercettazione che riguarda Raul Bonarelli Porta A A restare in zona No Poi ci arriviamo Non so se Miscelle Voleva aggiungere qualcosa Sulla tratta delle Bianche Su questa possibile pista Perché poi è sempre molto informato Il nostro opinionista A proposito di quello che è La parte storica E quella che è l'attualità Ma grazie Fabio Ma la L'attualità delle Bianche È esistita E è durata fino all'85 86 Quindi smentiamo quello storico Io non ricordo il nome È uno storico autorevole Per questi casi Storico del crimine Molte volte Molte volte Fabio Noi siamo tutti autorevoli No però Poi Molte volte Pecchiamo magari di presunzioni O pecchiamo di Purtroppo di Non sapere Sì perché lui la scude categoricamente Ha detto questa è una È un qualcosa di Che non esiste Non si può escludere Non si può escludere Non è così E non si può escludere Anche perché Tu ben ti ricorderai Che fino agli anni 86 A Roma Sono scomparsi Tanti ragazzi E ragazze Dai 15-16 anni Per l'espiantazione Per l'espiantazione degli organi Quindi Altra piaga Sembrerebbe Sembrerebbe proprio Da un ragazzo Molto giovane Quindi In quegli anni C'era questa possibilità Questa probabilità Poi Mauro Molto più esperto di me E già L'aveva dette Queste cose Già ci aveva dato Appunto Ci aveva fornito Dei dati interessanti Tu ne hai forniti altri Altrettanto interessanti Però dobbiamo fare Un altro step Perché dobbiamo andare A capire Come il caso Mirella Gregori Si va a legare Al caso Emanuela Orlandi Che scompare Un mese e mezzo dopo Il 22 giugno Del 1983 Quando Il caso Gregori Diventa Orlandi Gregori Da dove Parte Tutto questo Possiamo dire Che parte Da quella Famosa foto Di Mirella Con Giovanni Paolo II Che poi finisce Sui giornali La vediamo intanto Perché è meravigliosa Soprattutto meraviglioso Lo sguardo di Mirella Nei confronti Del Santo Padre Ecco Raccontiamo La genesi Di questa foto Mirella Andò Dicembre Dal Papa Con la scuola E lì Ebbe l'occasione Di prendere Tra le mani Le mani Del Papa E sembra quasi Come se Gli volesse parlare E pare che questa foto Sia rimasta attaccata All'osservatore romano Per un mese E che Sempre pare Io dico pare Perché la certezza Non c'era nessuno Cioè nella redazione L'osservatore romano? Sì Nella bacheca Nella bacheca E che sia stata scelta Perché c'è un allaccio Come hai detto tu prima Di Raul Bonarelli Che era Uno della scorta Del Papa Che Conosceva Mirella E Sonia L'amica Che stava sotto Casa Che aveva il bar Quindi è un Una continuità Sul discorso Ad escamento Ragazze Eccetera E tua madre Così intanto Abbiamo il capitolo Raul Bonarelli Quando poi Venne il Papa Un'altra occasione Due anni dopo Dalla scomparsa Di mia sorella Nell'85 La parrocchia San Giuseppe Sì Sulla noventana Venne il Papa E riconobbe appunto Raul Bonarelli Che era il capo scorta O qualcosa Sì Del Papa E come quello Che era Che si fermava A parlare con le ragazze Lo aveva visto altre volte Sotto casa Proprio perché Mirella Aveva la libertà Comunque di scendere A frequentare persone Eccetera Non era una ragazza Che era rinchiusa a casa E lui abitava lì Possiamo dire La parallela La parallela Via Alessandria Sì Di vienomentana Ecco perché Mauro ha detto Che comunque Andava cercata Nella cerca del quartiere Non casalingo Non mi ha fatto ridere La cosa casalinga In quel senso Era il riferimento Casalingo E chiediamo appunto All'esperto Mauro Valentini A questo punto No Mauro Si legano i due casi Alla fine Sì Si pensa Poi anche il Papa Contribuirà In un Angelus A Castel Gandolfo Ricordando Mirella Gregory Come la chiama Carol Wojtyla Però parliamo ora di questo Perché è importante Perché questo poi Ha depistato completamente Nel senso Ha confuso le acque Ancora di più Se posso dire Ha affossato la possibilità Della ricerca di Mirella Parsa E che non la cerca nessuno Ecco Qui intanto Pietro Orlandi Con l'avvocato Laura Sgro Ci salutiamo entrambi Entrambi i nostri amici Presto avremo Anche Loro Per parlare Visto che il 22 giugno È vicino Prego Mauro Scusate Di Antonietta E di Mirella E fatalità Il 4 agosto In uno di quei Arriva il primo comunicato Del fronte Di questo fronte turkish Ecco Così apriamo un altro capitolo E in un delirio Insomma Io vi invito a leggerlo Così com'è Noi l'abbiamo pubblicato Proprio così com'è Nel libro c'è Sì Insomma In questo comunicato A un certo punto Loro scrivono Mirella Gregori Cerchiamo Vogliamo informazioni Sembrano quasi loro A chiedere informazioni Riguardo A questa storia Cosa succede però Che Basta quella scritta Quella parola Per agire Per mettere insieme I due casi Dentro ai Dentro al procedimento La procura Li Evoca Tutte Avoca Tutte e due a sé E da quel momento in poi C'è anche un solo Avvocato Perché L'avvocato Egidio Si propone Alla famiglia Gregori Come loro assistito Insieme Agli Orlandi Quindi che succede? Che questi casi Si associano Si associano In una maniera Così diciamo Particolare E poi E poi come hai detto tu Cinque giorni dopo Arriva una Nell'Angelus Del Papa La domenica C'è proprio questa dichiarazione Il Papa Cita tutte e due Le Le associa quindi Le associa Si e poi Usa un termine Che sembra Quasi un termine In codice Usa una frase In codice Che probabilmente È il simbolo Di una trattativa Che comunque Era già iniziata Poi Se la trattativa Era con Un Persone Che veramente Avessero in mano Qualcosa O Millantavano Questo purtroppo Nessuno è riuscito A capirlo Almeno finora È chiaro poi Quel fronte Anticristiano Turchese Va a rivendicare A chiedere La liberazione Dell'attentatore Del Papa Ali Ak-Cha Non so se il tuo riferimento All'Angelus Con il messaggio In codice Di una trattativa Viata È quando il Papa Dice Che va rispettato Come Come persona Ali Ak-Cha Nel senso C'è un'apertura Del Papa Nei confronti di Ak-Cha Insomma Cioè Associa Ak-Cha Nello stesso momento In cui parla di Mirella E di Emanuela Sì Questo è Abbiamo anche le immagini Di archivio di Ak-Cha Sembra che ci sia Appunto Qualcosa Che In qualche modo Le lega Il fronte turkish È evidente Che non esiste Questo adesso Lo sappiamo Non esiste Il fronte turkish Poi Qualcuno Anche Della Stasi Dirà che Lo sono inventato Loro Ma certo È che Mettere insieme Una cozzaglia Di notizie Come quelle Crea però Questo caos Che vedete voi Qui adesso Nelle immagini Dove Si dà Una ribalta A questo personaggio Ignobile Che ha Praticamente Non solo Tentato Di sparare Al Papa Ma aveva già fatto Altre azioni Di quel tipo Sempre su commissione Da parte di qualcuno Della sua organizzazione Ma che poi A un certo punto Centrando a sé Con tutte queste telecamere Con le sue dichiarazioni Fasulle E anche in qualche modo Calcolate Crea un caos Così Assoluto Intorno a questa storia Che da quella Da quel caos Poi Non ci si torna più Indietro Io ritengo Che Aliagia Non c'entri nulla Con questa vicenda Neanche con la vicenda De Manuel Orlandi Ma che Col suo comportamento È riuscito Forse anche Un po' Aiutato A creare Una situazione Di caos Per cui A un certo punto Tutto vale E però A quel punto Poi non vale più niente Ecco A proposito della Stasi Nel libro C'è un passaggio importante Interessante Perché A proposito Dei tanti depistaggi Questo fronte Turkesh Sarebbe stato Messo in piedi Il tutto Questa messa in scena Voluta dalla Stasi Era Una sorta di polizia segreta Della Repubblica Democratica tedesca Quella che era La Germania Est Nell'orbita Di Mosca Del blocco Sovietico Proprio per In qualche modo Scagionare Dall'attentato Al Pontefice Una Bulgaria O altri paesi Che facevano parte Del patto Di Varsavia Dando così La colpa Alla Turchia Quindi un depistaggio Questo dice Gunter Bonsack Il capo Del servizio Di disinformazione Della Stasi Che dice Che gli è stato Commissionato Lui lo racconta Gli è stato Commissionato Dall'Unione Sovietica Una sorta Di Depistaggio Di dossier E falso Buttandola Verso Il gruppo Antimusulmano Fa un po' Sorridere Frunte Anticristiano Che sembra Proprio Veramente Una Invenzione Di sana Pianta Non è mai Esistito Ma anche Quello che scrivono È delirante Quello che scrive Quello che scrive La delirante Soprattutto Sembra Che non Abbia Nessun Senso Però poi In questo Grande caos Di cui parlavo Prima Tra telefonate Tra comunicati E tutto il resto Arriva Una telefonata Naturalmente Non registrata Perché Ancora Non si era Neanche pensato Di mettere Sotto controllo Il telefono Dei Gregori Arriva Una telefonata Al bar E questa voce Che lascia Veramente Interdetto Che sembrerebbe Essere Sempre la stessa Che poi sentiamo Nelle Registrazioni Fa Una Azione E se vuoi È l'unica azione Ma è l'azione Più importante Di tutta questa vicenda Cioè fa una descrizione Che magari Antonietta Spiegherà meglio Fa una descrizione Degli abiti Di Mirella E se ci pensate Dentro a quei Centoquaranta Centocinquanta Faldoni Del caso Emanuela Orlandi E Mirella Gregori È l'elemento Più forte E più importante Nel caso Di Emanuela Orlandi Non c'è A mio parere Un elemento Così forte Perché tutto Quello che raccontano Su Emanuela È tutto Abbastanza Fumoso E poco Comprensibile Bene Invece Qui c'è Qualcuno Che alza il telefono E parla Di Mirella Dando la sensazione Di averla Almeno Vista Il giorno Del rapimento Del rapimento Perché descrive Come i capi D'abbigliamento Indossa A te colpi in particolare La marca delle scarpe Perché è il negozio Vicino al bar Dove andavate Ha colpito tutto Perché quando noi Abbiamo fatto la denuncia Non abbiamo detto Le marche interne Degli indumenti Mentre lì Quando ci hanno telefonato Hanno detto Dai questa descrizione Antonietta Lei capirà Quindi hanno dato La descrizione Di tutte le etichette Interne Degli indumenti Da slip Quindi i vestiti Di mia sorella È stata spogliata Mia sorella L'hanno avuto Tra le mani Quella è l'unica cosa Certa Come dice Mauro In tutta la vicenda Che Se non sono stati loro Quelli che hanno telefonato Comunque Hanno avuto Modo Sapevano qualcosa Hanno avuto modo Magari non hanno direttamente Non direttamente loro Ma hanno avuto modo E hanno informati bene E rispose Filippo A quella telefonata Sì Che oggi è tuo marito All'epoca Il tuo fidanzato Lui però Rispetto alla voce Italiana Mascherata da inglese Del famoso americano Protagonista Per il caso Emanuele Orlandi Filippo dice Che era Ben Deciso Nel tono Questo personaggio Che parlava italiano Sì però C'è rimasto sempre il dubbio Se fosse veramente Camuffato Lui disse Sembrava veramente Uno che tentava In modo Diciamo buffo Di parlare Con l'accento inglese Lo colpì In modo particolare A questo Lo ricordo bene Ripartiamo da qui Tra poco Perché dobbiamo dare la linea Alla regia E poi Il terzo Capitolo L'ultimo Per quanto riguarda Il caso Mirella Gregori Linea Emanuele Forcina Ben ritrovati da Fabio Camillacci Terzo capitolo di Crimini e criminologia Dedicato a Mirella Gregori Cronaca di una scomparsa Antonietta Gregori In studio Sempre collegati Mauro Valentini Giornalista e scrittore Michelle Maritato Giornalista e criminologo Ovviamente Grande protagonista Di questa parte Di crimini e criminologia Antonietta Gregori La sorella di Mirella Restiamo A quando i due casi La scomparsa di Mirella Gregori E quella di Emanuele Emanuele Orlandi Vengono collegati Questo Antonietta Porterà Ovviamente A voi Un'ulteriore No Serie di Piste Uno stilicidio Ancora maggiore Rispetto a quanto No Era avvenuto All'inizio Nella prima fase Per una serie di motivi L'abbiamo Ricordati Le lettere del fronte Anticristiano Turkes L'intreccio Con Ali Akcia Il Papa Che parla anche di Mirella Oltre che di Emanuele Orlandi E poi tutto quello Che è seguito dopo Le comparazioni Del DNA Con le ossa Ritrovate nella tomba Di De Pedis Enrico De Pedis Detto Renatino Uno dei boss Della banda della Magliana Sepolto A Santa Polinare E su quel teschio Fatto rinvenire Nella chiesa Di San Gregorio VII A Roma Questo è un fatto Che mandò su tutte le furie Tuo padre Forse fu quella La goccia Che fece traboccare il vaso Tuo padre poi si chiuse In un silenzio Che fece molto più rumore Di tutto il resto Per quanto Tra virgolette Disgrazie ci hanno unito Hanno dato un po' Di risalto a mia sorella Perché sennò sarebbe stata Una scomparsa Di serie B Come la chiamiamo Però mio padre Ha sempre detto Che rispetto all'Orlandi L'ha sempre chiamata Una scomparsa di serie B Però quantomeno Un po' di rilevanza L'ha avuta Quando ci fu Il ritrovamento del teschio Furono fatti Ecco il DNA Agli Orlandi Ma noi non venne Non ci chiamò nessuno Non venne nessuno A dirci Però fecero L'accertamento Anche su Mirella Forse ho capito male No no Non l'hanno fatto Solo su Emanuele Orlandi Solo su Emanuele Orlandi Perché era vicino Al Vaticano E hanno fatto là Infatti lì Papà si arrabbiò tantissimo E rilasciò anche Un'intervista Appunto dicendo Che noi eravamo Cittadini di serie B E infatti La figlia non veniva cercata O quantomeno Il DNA Ce l'ho Me l'hanno chiesto a me Quando i miei Già non c'erano più Quando appunto Furono trovati i teschi A Santa Pollinare Appunto per fare la comparazione A proposito Di quello che abbiamo detto In chiusura Di secondo capitolo Quella telefonata Che arriva al bar Di Via Volturno Il bar dei Gregori Risponde Filippo Mercurio Lo possiamo dire Il cognome Che è l'attuale marito Di Antonietta Gregori E c'è una descrizione Clamorosa Dei capi di abbigliamento Che indossava Mirella Il giorno Della scomparsa E lì Peraltro Loro O Non sappiamo Se erano I rapitori O presunti tali Comunque gente informata Molto bene Perché Tutto Tornava Per quanto riguarda L'abbigliamento Di Mirella Lì alzano il tiro Perché capiscono Che Il Papa Ha fatto il suo intervento Soprattutto per Emanuela Orlandi Ma non è competente Per il territorio italiano A proposito della Perché Emanuela Orlandi È scomparsa In territorio italiano Non Nella città del Vaticano Pur essendo cittadina E lì vi chiedono Di intercedere Con Sandro Pertini Sì Quindi Sempre questa Telefonate Poi appunto Mamma in tutte le maniere Ha cercato di Contattare Appunto Il presidente E mandando anche Delle lettere scritte Gentilmente Ci fu concesso Di andare da lui E Vi ha ricevuto Ci ha ricevuto Gentilmente Era stato veramente Un presidente D'oro Beh lui Era il nonno Il padre Umanamente Umanamente proprio Una persona eccezionale E appunto Gli disse a mia madre L'ho accompagnata io Che avrebbe fatto Tutto quello Che era possibile Per sapere qualcosa Di Mirella Perché loro puntavano No A Pertini Che Per intercedere Poteva concedere La grazia Per la liberazione Secondo quel fronte Turchese Fantomatico Fantomatico Questo È un altro passaggio Fondamentale Mauro Sì È fondamentale Sono d'accordo Però io Voglio fare una riflessione Che Ho fatto in questi anni E cioè Qualcuno che ha Un'organizzazione Qualcuno Un gruppo Che ha Quel dato Di cui abbiamo sentito parlare Dei vestiti Di Mirella Chiama quel giorno Lo racconta È una bomba quella Dal punto di vista Proprio Come dire Investigativo È una bomba Ma poi Nelle successive Chiamate Non ne fanno più Riferimento Cioè Chi chiama Dopo Chiamando Chiedendo Di Pertini Umiliando Anche Il papà Di Antonietta Di Mirella Dicendogli Stai zitto Tu devi Ascolta me Devi chiedere Al presidente Una volta poi Rispose Paolo Chiedeva Della figlia E lui Chiedeva Della figlia E quello Gli dice Io non ti posso Rispondere Non avere Troppe speranze E insomma È possibile Che Mi chiedo io Se tu hai in mano Un elemento Come quello Non te lo giochi più Da un punto di vista Della credibilità La credibilità Inizia a perdersi A settembre Ottobre Queste telefonate Arrivano Sempre in maniera Più forti Ma sembrano Più volute Come dire Più volute Da chi chiama Che attese Da chi riceve Perché ormai Si è capito Che questi Non solo Non ci restituiranno Le ragazze Ma non sanno Neanche di cosa Parlano Perché Raccontano Delle cose Che non Non si capisce Da che parte Leggerle Eppure Quello che ha chiamato Quel giorno Che ha fatto Quelle dichiarazioni O non chiama più Oppure è possibile Che Che Diciamo I rapitori Non utilizzino Ancora Non so Dicendo Ricordatevi Che Noi abbiamo Questo dato Qui Ecco Mi ha fatto pensare A questo Il fatto Che forse Chi ha chiamato Quel giorno Ha parlato Con Filippo Fosse qualcun altro Rispetto a questi Che hanno continuato A chiamare È vero però È vero però Che questa storia Si lega poi A doppia mandata Con il nome Di Raul Bonarelli Che abbiamo fatto Ci stiamo girando Attorno Ma insomma È un elemento Andiamo al punto Andiamo allora al punto Raul Bonarelli Il punto è Che Raul Bonarelli Viene messo A confronto Con la mamma Di Otto anni dopo Però Di Antonietta Otto anni dopo Sembra quasi Che gli facciano Come dire Un favore Perché dice Insomma La chiama Addirittura Trapela Dalle carte Il fatto Che la procura Sapesse Che la mamma Di Antonietta Purtroppo Si era molto ammalata Per cui sembra quasi Che fanno un'azione Solo Perché la mamma Di Antonietta Non sta bene E In quel confronto Che Raul Bonarelli Viene allenato A quel confronto Viene con delle telefonate In cui gli dicono Mi raccomando Su Emanuela Noi non abbiamo Detto niente Non abbiamo fatto niente Non abbiamo dossier Non è roba nostra Lui viene allenato E istruito Dal suo superiore Lui lo chiama comandante Insomma Deve essere uno Più importante di lui Quando va lì Lui trova Con grande sorpresa La mamma Di Mirella E quel confronto Purtroppo Dico io Purtroppo Viene Finisce con un nulla di fatto Finisce con un nulla di fatto Perché la mamma Di Antonietta E di Mirella Non riconoscerà Raul Bonarelli Come quell'uomo Che aveva parlato Con le figlie E Qualche anno Cioè con la figlia Scusami Qualche anno Con la figlia Anche con Sonia No Di Albar Esatto Con Sonia Albar Bene Raul Bonarelli però L'intercettazione in uscita Quando esce dalla procura Molto sollevato Dal fatto che La cosa non era Per Emanuele Orlandi Che evidentemente Era il crucio Più importante Per lui Fa delle dichiarazioni Che sono Che io Abbiamo pubblicato E che Sono molto interessanti Perché lui dice Ha un'ipotesi E dice E parla di Quei praticoni Del prete Riferita probabilmente Alla parrocchia Che si trova Quella di San Giuseppe Quella poi Pietra dello scandalo Dove 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 ci va il Papa E dove i Gregori Incontrano Raul Bonarelli Bene Questa cosa qui A me ha molto colpito Perché I praticoni A Roma Sono generalmente I collaboratori I I Factoturi Delle parrocchie No? Esatto Per cui Il fatto che uno Come Bonarelli Che l'argomento Lo conosce molto bene E che lui Si vanta di dirlo Conosce tutti Nel quartiere Tant'è che dice È possibile Vive lì Vive lì Ma soprattutto È uno che Le parrocchie Il mondo ecclesiastico Lo conosce Per mestiere No? Ecco Detto questo Quando fai Un'affermazione Del genere Quella è un'intercettazione Mentre lui parla con la moglie Esatto Raccontando Come era andato l'incontro Raccontando Dice Ma secondo me Dirella È finita No? C'era stato Quei praticoni Del prete Allora Magari Ancora Riguardo al caso Emanuele Orlandi Mirella Gregori Su Emanuele Orlandi Cioè scusami Su Mirella Gregori La procura che chiude Spiega che Non è stato fatto Nessun lavoro Serio Di indagine Chiusura 2015 Mauro? C'è anche una prima chiusura C'è una prima chiusura No quella definitiva Dico L'ultima Si è chiusa nel 2015 Riguardava anche Mirella Quindi Questo è molto più Precisa Antonietta Però La prima chiusura Scrivono proprio Non l'avete cercata Ma è evidente Nessuno l'ha cercata E anche quando Uno come Bonarelli Intercettato Dice alla moglie Che potrebbe essere stato Qualcuno Qualcun altro E Obiettivamente Dà delle indicazioni precise Quanti potevano essere Nell'86 I collaboratori del prete Di Della chiesa di San Giuseppe Boh Due Tre Cinque Dieci Indagine Potevano farla Sopra il luogo Andiamo a vedere Magari Io lo dico così Da un punto di vista Se fosse questo un film Se fosse un film L'investigatore Andrebbe a guardare Il curriculum Di questi personaggi Perché noi sappiamo Che se qualcuno Delinque In quella maniera Per atti Per dei delitti Che sono sessuali O sono Di Di comunque Di Diciamo Anomali Perché nessuno Ce l'aveva con Mirella Questo Siamo tutti sicuri Di questo Magari Ne ha fatto un altro Di reato uguale Allora magari Poteva essere una pista Ma certo Che se noi Chiudiamo Quei fascicoli E siamo qui Dopo 39 anni A dire Boh Chissà chi erano Quelli del prete Ci lascia veramente Sgomenti Allora Visto che ora Ci avviamo verso Le conclusioni Il rush finale Almeno per quanto riguarda Questo terzo capitolo E la parte finale Dedicata a Mirella Gregori Vado a Sentire Una chiosa Del nostro Opinionista Michel Maritato Anticipo Che sta Da quanto mi segnalano Monopolizzando Per un'altra questione Che poi dopo Andremo a sviscerare Quindi Restate sintonizzati Sul 264 Del digitale Terrestre A proposito Del delitto Pasolini Stanno arrivando Tanti messaggi Per Michel Maritato Ma Andremo poi Su questo tema Nella Seconda parte Della trasmissione Crimini e criminologia Però A chi osare Su Mirella Gregori Senza Andare Particolarmente Lunghi Michel Perché poi Devo sentire Su tanti Altri aspetti Antonietta Gregori La tua Conclusione Trenta secondi Sì Trenta secondi Della conclusione Che Nè Mirella No 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 Proprio breve A Roma Abbiamo La fortuna O la sfortuna Poi diventa come si interpretano le cose Di avere la città del Vaticano E di avere la più grande comunità ebraica Del mondo Probabilmente Abbiamo i più grossi servizi segreti Che sono quelli italiani I più grandi servizi segreti Che sono quelli del Vaticano E i più grandi servizi segreti Che sono quelli ebraici E hanno il fulcro La serie proprio a Roma Non sono stato in grado E non sarebbero in grado In collaborazione In Mossad E non sarebbero in grado A Roma Di trovare Due ragazze Come Emanuela Orlandi E come Mirella Gregori Evidentemente Non c'è l'interesse di trovarle Evidentemente L'interesse di nasconderle È ancora più grande Di quello di darci questa verità Questo Tutto qua E con questo salutiamo Michel Maritato Ma lo ritroviamo Tra poco Perché poi Tra poco diventerà protagonista A suo malgrado Intanto grazie Al Presidente di Assolutela Grazie a voi Grazie a voi Buonasera a tutti Buonasera Mauro Buonasera Antonietta Buonasera E io Mi concentro su Antonietta In questa parte finale Ripartendo proprio Dall'incontro Quel confronto Tra tua madre E Raul Bonarelli Che tua madre era convinta Lei ha sempre detto La madre era certa Era certa Quell'uomo che parlava Con Mirella E con Sonia Al bar Qua abbiamo saputo Che abitava lì A due passi Alessandria E là dietro È lo stesso Capo scorta Del Papa Poi a confronto Era passato tempo Otto anni Ma tua madre Mi ha detto Che la stessa mattina Continuava a ribadirlo Assolutamente Improvvisamente Ha detto No non è lui Perché Quando è uscita Dall'incontro Che ha avuto In procura Gli ho chiesto subito Allora come è andata Ha detto No no Mi sa che mi sono sbagliata Ho detto Ma come mamma Eri certa Certissima Ma che stai dicendo Infatti Sono rimasta Essere fatta pure io E lei ha detto No no Non era lui Mi sa che non era lui E io lì Ho sempre avuto Il dubbio Che C'è stato qualcosa O qualcuno Che gli ha fatto cambiare idea Forse per proteggere Il resto della famiglia E io Maliziosamente Ora Questa mia malizia Si è alimentata Di quanto detto Da Mauro Valentini Nel senso Ha sottolineato Che tua madre Non dico che era malata Terminale In quel momento Ma comunque Allora Vorrei che qualcuno Gli abbia detto Lei signora Tra poco Non starà più con noi Però c'è Una famiglia Da proteggere Questa è un po' La tua idea Che non è tanto lontana Probabilmente Dalla realtà Se c'è Tutta questa attenzione Intorno al caso di Mirella Questo è un punto E poi c'è l'altro punto E qui dobbiamo tornare indietro Dobbiamo tornare al 6 maggio Il giorno prima Nella scomparsa Di Mirella Gregori Quando Per il rinfresco Per festeggiare La ristrutturazione Del bar di Pea Volturno Improvvisamente Torniamo anche Alle amiche di Mirella A un'amica In particolare Che sostiene Ha sempre sostenuto Che venivano pedinate Che erano pedinate Perché pedinavano entrambi L'ho saputo dopo Io l'ho saputo dopo Che tornando da scuola Si sono accorte Che c'era Me l'ha detto appunto Questa amica Che c'era qualcuno Che le seguiva Con la macchina E invece Il giorno proprio Dell'inaugurazione Il giorno prima Della scomparsa E questo qualcuno Potrebbe essere La stessa persona Chi erano questi Ricordiamo Sono entrati due tizi Che volevano fare Delle foto All'inaugurazione E mia madre Li ha allontanati Dicendo che era Una cosa privata L'ha vissi un po' Non lo so L'ha vissi strani Io non mi sono accorta Di niente Gli ho chiesto dopo Quando vedevo Che iniziava a parlare Con queste persone Mi ha detto No no Hanno insistito Vogliono fare le foto A tua sorella Perché gli ho visti Che hanno fatto Un cenno con la testa A tua sorella Quindi puntata proprio E mamma E tua madre Ovviamente da madre Il giorno dopo È andata subito a fare Sì La descrizione Appunto Ai carabinieri Di queste due persone Perché poi entri In quel vortice No Di paure Di comunque Di dare Ogni piccolo segnale Che poteva Dare la riuscita Per il ritrovamento Di mia sorella Uno lo andava subito a dire Cioè tua madre Si è ricordata Di questi due Personaggi Sì sì no Il giorno dopo Lei è andata subito A fare la descrizione Prima che No Dopo che è scomparsa Mirella Sì 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 Dopo Dopo che è scomparsa Mirella A proposito ieri È successo questo E noi abbiamo Degli identikit Che però E ora qui Mi aiuta Mauro Valentini A proposito di nuovamente Tornare all'intreccio Con Emanuella Orlandi No Mauro Perché L'identikit Rilasciato No La descrizione Che ha fatto Mamma Vittoria Arzentona La polizia Si avvicina Alle descrizioni Fatte Da amici Di Emanuella Orlandi A proposito delle Ultime persone Che avrebbero avvicinato Emanuella No Ci sono dei tratti somatici Che tornano Ci sono tratti somatici Che tornano Questo è Un grande mistero Però vedi che Scavando Comunque Ascoltando Quello che dice Antonietta Elementi Per poter agire C'erano Questo immobilismo Questo aspettare I comunicati Aspettare le telefonate È proprio A rileggerlo Per quanto ci si sforza Di comprendere Non si comprende Perché Avevamo degli elementi Che potevano Aiutarci Nelle indagini E queste indagini Sono rimaste lì Bello Sì L'abbiamo visto Ma qualcuno Ha cercato sti due No Altro punto importante Mi aiuta Antonietta In questo caso Il giallo Della scomparsa Del diario Di Mirella Poi Sì Dei diari Dei diari Però Poi sempre quello speciale Scomparsi con Pietro Orlandi C'è un diario Che Pietro peraltro Analizza Decodifica Anche una sorta di Così Perché Mirella Scriveva Alfabeto segreto Di Mirella Sì Scriveva con Alfabeto segreto È stato decodificato Ma non c'è niente Di rilevante Ma quello è un altro diario È un altro diario Perché sono venute Dei personaggi In casa Dopo quei giorni Che era scomparsa Mia sorella Che hanno chiesto Tutto ciò che aveva Discritto E mia madre Gli ha dato I diari Ora chi fossero quelle persone Se fossero stati Veramente agenti O agenti segreti O non lo so chi Comunque in quei giorni Frastornata Da tutto ciò Quello che è successo Probabilmente Mia madre Non era consapevole Di quello che stava facendo Però tutte queste cose Nel senso Potrebbe sembrare Un qualcosa Di molto semplice Da risolvere Non è legata Alla questione Emanuella Orlandi Ma tutte queste Stranezze Depistaggi Sai che Noi eravamo anche Tutelati Tra virgolette Fanno pensare Che magari Mirella Sapesse Perché tutto questo Interesse Questa mancata collaborazione Eh sì Quasi a coprire A voler coprire A chiudere No Allora io ti posso dire una cosa Fabio Noi comunque eravamo Questo dico bene L'avete notato questo Abbiamo notato quello Ma noi ci fidevamo anche Dell'avvocato che ci rappresentava Perché dal momento Che ha preso in mano Tutto l'avvocato Egidio Comunque noi Eravamo tirati fuori Perché lui diceva sempre Ci penso io Io sono un avvocato internazionale O chi lavora con me Che sono carabinieri O lui interloquava Con Interloquiva con I rapitori Quindi Comunque avevamo Un qualcuno Che ci rappresentava E No dico a posteriori però Perché analizzando il caso A posteriori certo Se è semplicemente scomparsa Non ci dovrebbero stare Tutte queste cose Tutte queste storie Infatti I ragazzi Il giorno prima Bonarelli Cioè C'è un puzzle Mauro Non pensi questo Cioè Qui siamo in un mistero Cioè Sembra quasi un mistero di Stato Però Io credo che Io credo che Addirittura Ripeto L'associazione Con la storia Di Emanuele Orlandi Abbia fatto elevare Sublimare La storia di Mirella E quindi A quel punto Si è intervenuti Per Lavorare Anche su questo Ecco Però il problema È che prima È che prima Non si è lavorato Io Non posso dire Nomi Ma ho parlato Con qualcuno Che si è occupato Del caso E mi ha detto In maniera Che uno Delle persone Che si è nominato In questa In questa fase Uno degli amici L'amico Chi Era Sospettato Di essere Il citofonista Lo chiamiamo così Di quella famosa Di quel famoso pomeriggio È stato interrogato Semplicemente In maniera Molto Diciamo Molto Sommaria E che poi Riascoltato Ha dato Una versione Come abbiamo detto Un po' contraddittoria Ebbene Ebbene L'investigatore Di cui io parlo Che era Della procura Aveva la responsabilità Di questo caso Insieme ad altri Mi ha detto Ma sì Ma Io l'ho guardato Negli occhi Era sincero E quindi L'abbiamo chiusa così Ecco Io ho un po' paura Di Una indagine Fatta Guardando negli occhi In modo superficiale Insomma Perché C'è un po' di superficialità Perché se sono innocente Magari Con l'atteggiamento Posso Darla L'impressione Che sia colpevole Al contrario Potrei addirittura Essere così bravo Da Essere escluso Solo per una sensazione Qui Altro che sensazione Qui bisognava chiedere Hai detto Due anni Hai detto Cinque mesi Hai telefonato Alle 22 Che hai fatto Fino alle 22 Visto che a casa Gregori La telefonata Di Alessandro Arriva dopo Alle 22 Ecco Io non è Non è un atto D'accusa Ma Non è un atto D'accusa Contro Alessandro Diciamo In senso lato È un atto D'accusa Nei confronti Di chi Aveva una pista E l'ha lasciata lì E c'era un'altra Volevo aggiungere Di pista Quella Della intercettazione Ambientale Del SISDE Del SISDE Al bar Lì a Portapia In cui Sonia Dice Ad un'altra persona Se non sbaglio Anche un cameriere Che era presente Che lei avrebbe potuto Fare la fine Di Di Mirella Perché Quella persona Se l'è portata via Cioè anche su questo Non si è approfondito Sì Assolutamente No poi chiedo Chiedo Ad Antonietta Tutti questi punti Messi insieme Se fossero Ripresi da capo Certo con le tecnologie Di adesso Anche quello di Sonia Molto amica Amica del cuore Ma Lei è stata anche Accusata di reticenza Non è Non ce lo scordiamo Ecco appunto Però sono tutti punti Che sono stati lasciati così Andare a morire così Per quello Ritorniamo al discorso Che non hanno indagato Non hanno Dal progetto Dai primi momenti Dovevano Ma l'idea che ti sei fatta È Volutamente È stato fatto così Ma no Penso di no Penso con leggerezza No Volutamente ricollegandoci A un mistero appunto No Voglio ben sperare Che non sia stata fatta Volutamente la cosa Troppa superficialità Troppa superficialità Come è accaduto In tante altre indagini Perché si è pensato subito A un allontanamento volontario Volevo chiedere Cosa ne pensi Dell'avvocato Gennaro Egidio Che idea ti sei fatta Di questo personaggio All'inizio eravamo Estasiati da come si comportava Da quello che ci Tra virgolette Ci prometteva Però dopo A lungo andare Abbiamo visto Che comunque Aveva degli atteggiamenti Un po' Strani A nostro avviso Anche perché Ogni volta che andavamo lì Lui era Sempre contornato Da personaggi Che poi Siamo venuti a sapere Che non facevano parte Lì Dell'ufficio E quindi Niente Siamo rimasti un po' così Poi questa cosa Di chiamare Tua madre Tua padre Correte Venite Sembrava che Avessero trovato Mia sorella Da un momento all'altro E poi non dovevamo dire Assolutamente niente Neanche io Addirittura Anche nei momenti salienti Mi raccomando E questo fa pensare Addirittura non dico niente in famiglia Mia madre diceva Ma mia figlia Io lo devo dire No no mi raccomando Riservo Riservo E andiamo Alle conclusioni Te l'ho già fatta in passato Questa Domanda L'ho fatta anche a Pietro Orlandi Da sorella Quindi da Sangue a sangue La sensazione che hai Qual è? Che Mirella Non c'è più O che Mirella Possa essere da qualche altra parte Ma io mi auguro per lei Che Che stia vivendo Cioè non hai una tua sensazione? La sensazione Non la voglio pensare morta Perché Però Dici da un lato Però da un lato Se la penso morta La vorrei avere per qua Per piangerla Per piangerla Per portargli i fiori Ma la Io Mi auguro che tutti questi 39 anni che sono passati Lei possa essere Da qualche parte Abbia vissuto una vita Perché stroncare una vita A 15 anni Chi è genitore Lo capisce Insomma Che un figlio Mia madre diceva Dovevo morire io Non doveva scomparire Tua sorella Perché aveva appena 15 anni Quindi aveva una vita davanti E niente Tanti mitomani Ultimamente è successo qualcosa? C'è stato qualche episodio Che vi ha riacceso Speranze? Ma le ultime cose Che ci sono state È stata anni fa Prima che chiudessero Nel 2015 Arrivò una lettera Con dei capelli Con della cenere E lì abbiamo avuto un attimo Sì che lì ti ha scioccato Mi ha scioccato Perché ho pensato subito Alle cenere di mia sorella E ai capelli Poi sono state analizzate E abbiamo visto che insomma Comunque non era Nulla di tutto ciò Però comunque sono cose Che ti scioccano Da una parte ti riportano Un attimo alla speranza Ma dall'altra Sono cose inquietanti Molto inquietanti Invece per quanto riguarda La speranza Di una riapertura Dell'indagine Mauro scrive nel libro Chiusa per sempre In realtà Si potrebbe riaprire Certo Quello sì Quello basterebbe qualcuno Nel 2018 Quando ci sentimo Per la prima volta Proprio perché era uscito Il libro di Mauro Poi abbiamo ancora Anche la Lucandina La possiamo far vedere C'è la foto di Mirella Gregori Quell'evento Che ho avuto il piacere L'onore di moderare C'è anche Tanto di logo Di Radio Cusano Campus Qui era il 2019 Però nel 2018 Quando ci sentimo Per la prima volta Avevo ancora speranze Mi dicesti Ancora non possiamo dire niente Però c'è qualche possibilità Che si riapra C'è un lavorone dietro Ma perché i faldoni Sono veramente tanti Come ha detto anche Mauro Ma c'è ancora Ancora in piedi Questo lavoro Stiamo cercando Di trovare La modalità Per poter cercare Di farlo riaprire Perché come abbiamo detto Anche stasera Ci sono tanti punti Oscuri Che non sono stati valutati Quindi Qualche speranza Di riapertura E nel salutarlo 30 secondi Per chiudere La tua considerazione Mauro Poi chi vuole leggere Le considerazioni Di Mauro Valentini Il libro Cronaca di una scomparsa Io questi 30 secondi Li spendo Per ringraziare Antonietta Per avermi portato Dentro questa storia E averla in qualche modo Essersi aperta nel racconto Per quanto lo penso io Chi è stato A far sparire Mirella È vivo E la conosceva bene Sta lì Secondo me Non sono più di 4 o 5 Le persone su cui Bisognerebbe andare A rifare un po' di domande E confrontare Con le dichiarazioni Che sono state fatte all'epoca Perché certe dichiarazioni Ci stanno Vanno semplicemente Analizzate in maniera diversa La verità È a un passo Ma quel passo Non l'ha voluto fare nessuno All'epoca E adesso È quasi impossibile farlo Però quasi impossibile Bisognerà vedere Che cos'è Bisognerà vedere Se c'è una volontà Di andare a rileggere Quello che hanno detto Alcuni personaggi Che ruotavano Attorno a Mirella E che probabilmente Non ce l'hanno raccontata Giusto E stasera Abbiamo tenuto viva La memoria di questo caso Proprio ricordando I tanti personaggi Di cui Parlava Mauro Valentini Non abbiamo avuto modo Di parlare Di una pista Che poi è seguito Quella del fronte turques La famosa pista Phoenix Ma Quella è tutta un'altra storia Per dire Quante situazioni Poi ha vissuto La famiglia Anche lì Con Con presunti Personaggi legati Alla vicenda Io ringrazio infinitamente Antonietta Gregori Per essere stata Qui con noi Questa sera Naturalmente Noi Seguiremo Con grande attenzione Qualora dovessero Eserci delle novità Non abbiamo Da quanto mi segnalano Ricevuto messaggio In tal senso Di speranza Però chissà Non è mai troppo tardi Qualcosa Può sempre arrivare Certo La speranza Non muore mai La speranza è quella Della famiglia Gregori Purtroppo Papa Paolo E mamma Vittoria Non ci sono più Però Tre splendidi figli Un marito Che Ti ha amato E amato Ci sono io Che non demordo E tu che non demordi E che hai ereditato Lo possiamo dire Il testimone Da tua madre Un punto di morte Però ti ha detto Di continuare a cercare Mirella Grazie ancora Grazie Grazie Antonietta Gregori Ci stiamo Commuovendo entrambi Quindi diamo la linea Alla regia Ringraziando ancora Mauro Valentini Grazie a te Un saluto E naturalmente La linea va A Emanuele Forcina Poi torniamo Volteremo pagina Parleremo Del mostro di Firenze Anche lì Sono passati Tantissimi anni Si sta muovendo Qualcosa Di nuovo E ne parliamo Tra poco Qui a Cusano Italia TV